Sul Mediterraneo centro-occidentale va approfondendosi una circolazione depressionaria la quale determinerà condizioni di variabilità sulla nostra regione nel corso di questo fine settimana. Stante la componente delle correnti meridionali le temperature si manterranno su valori miti. Tale depressione nel suo movimento verso Levante subirà un ulteriore approfondimento evolvendo in un ciclone simil tropicale a cuore caldo a causa del calore che verrà rilasciato dalle acque superficiali dei nostri mari che quest'anno hanno accumulato un'igente quantità di calore. La traiettoria di questo vortice depressionario sarà tale da colpire in maniera severa la Sicilia meridionale, la Calabria ed il settore sudorientale della Basilicata dove da domenica potrebbero abbattersi violenti nubi fragi. Questo a partire dalla giornata di domenica dunque. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 23 ottobre cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali piovaschi, più probabili sul settore settentrionale della regione. Temperature in aumento nei valori minimi della notte. Venti tra debole e moderati da sud e mare da poco mosso a mosso. Domenica 24 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse segnatamente lungo le aree costiere. Temperature senza particolari variazioni. Venti da debole e moderati da sud-est tendenti a disporsi da est-nord-est. Mare poco mosso a stuttocosta e mosso a largo. A partire da lunedì è previsto un sensibile peggioramento segnatamente sul basso Cilento dove sono attese precipitazioni via via sempre più intense. Saranno gli effetti dell'intensa depressione che colpirà duramente la Calabria e la Basilicata Ionica dove si determineranno situazioni di criticità a livello idrogeologico. Piogge temporali potrebbero estendersi in maniera più attenuata anche all'intera nostra regione ma molto più attenuate le precipitazioni qui da noi. Nel corso questo della giornata di martedì 26 con temperature che si riporteranno in linea con la media del periodo. Per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.